Gli edifici scolastici del territorio avranno presto il proprio libretto per annotare modifiche, ristrutturazioni, qualità e standard igienico-sanitari ed ogni altra informazione sull'aspetto strutturale e manutentivo dell'immobile. Per avviare un adeguato processo di valorizzazione del patrimonio scolastico, il Comune ha istituito con una delibera digiunta il fascicolo del fabbricato, uno strumento che faciliterà la conoscenza dei problemi e la messa a punto di interventi di recupero e valorizzazione delle scuole cittadine. Valorizzare il patrimonio non è cosa semplice, ma per farlo bisogna programmare gli interventi, non quando capitano i guai, ma bisogna programmarli negli anni. Ed è per questo che abbiamo chiesto il supporto di tutte le categorie professionali degli esperti del campo per mettere a punto una ricognizione, un fascicolo del fabbricato che soprattutto immaginasse il patrimonio scolastico, il patrimonio dell'edilizia scolastica come un bene per i cittadini. Il tema è stato al centro di un convegno organizzato in sala giunta con rappresentanti della pubblica amministrazione e del mondo delle libere professioni per costruire un percorso condiviso finalizzato al recupero degli immobili scolastici. Si tratta di riprendere in mano la situazione, correggere tutte le mancanze che abbiamo compiuto, che abbiamo tollerato fino adesso e operare per cercare di migliorare non solo la sicurezza sismica che è anche importante, è la più importante, ma anche per esempio il pericolo di incendi, il pericolo di frane o di pericoli di disordini geologici. Il fascicolo del fabbricato consentirà inoltre di programmare e monitorare la spesa per l'edilizia scolastica, la messa in sicurezza e la salubrità dei luoghi di studio e di sport, oltre agli interventi per la cura e la organizzazione degli spazi. Noi chiediamo aiuto e conforto agli ordini professionali e all'università per stare al nostro fianco in un'operazione che contemporaneamente ovviamente garantisce le future generazioni ma che è anche nel loro DNA perché chiunque si occupi di edilizia, di patrimonio edilizio, sa quanto sono importanti le scuole, che ruolo hanno all'interno di una città.